Il nostro pareggio stavolta a San Siro e l'Inter non può dirsi soddisfatta dei soli due punti in classifica. È finita 1-1 contro il Palermo con un primo tempo nervoso e una ripresa ricca di episodi. Vieri in panchina Recoba a casa e Adriano a far coppia dall'inizio con Cruz e poi con Martins. Si vede subito che il brasiliano è più libero di muoversi ma il gol proprio non arriva. Pioggia invece di cartellini gialli e sangue a fiumi dallo zigomo di Materazzi, colpito dal gomito di Toni. Per l'amor del cielo non volevo assolutamente fargli male, però magari sono contrasti che capitano e mi dispiace tanto perché sono alcun tipo che penso che non ha mai fatto male a nessuno. L'importante è non portare rancore, questo io non lo porterò mai perché non sono un tipo come magari tanta gente pensa. Dopo un primo tempo non divertente è il solito Adriano a rendere frizzante l'area di San Siro, pronti via ed è subito gol al rientro dagli spogliatoi. Il diecinero azzurro colpisce anche un legno e reclama un rigore, ma è palese la difficoltà della squadra di Mancini di chiudere la partita. Noi non possiamo creare così tante palle-gole e fare un gol solo, questa è una partita che avremmo dovuto chiudere molto prima e poi anche avessimo commesso una disattenzione come è stata, non avremmo sicuramente pareggiato. E basta un pisolino alla difesa interista per permettere al puntuale Lucatoni di rimettere in parità la partita, per la soddisfazione di Guidolin. Direi che è stata una bella partita, la gente credo si sia divertita e sono molto contento per i tifosi di Palermo che sono a corsi numerosissimi qui. E oggi le due squadre sono già al lavoro perché mercoledì è di nuovo campionato.